All'Aquila da un po' c'è un problema sulla sicurezza urbana ed è tale da avere spinto anche il Comune ad intervenire con un servizio maggiore di pattugliamento del territorio anche di notte da parte dei vigili urbani. Fenomeni di violenza ultimamente hanno interessato soprattutto i giovani. L'Associazione Mamme per l'Aquila, così sempre attenta alle tematiche dei giovani del decoro della sicurezza urbana, prende carte e penne e scrive alle istituzioni per chiedere un protocollo un po' più compiuto tra Comune e Prefettura, ma anche e soprattutto progetti integrati per i giovani e una sorta di strade sicure per il controllo del territorio. Non repressione insomma, ma soprattutto prevenzione e attenzione rispetto a una tematica che sta alimentando il dibattito cittadino. Il direttivo dell'Associazione si è riunito due giorni fa nelle persone di Antonella Flati, Tiziana Umbrigo, Giovanna Ciano e Monica Vagneri e abbiamo redatto un documento propositivo alle istituzioni perché crediamo che la collaborazione sia il primo punto per poter garantire la sicurezza in città e speriamo un incontro al più presto e un confronto tra famiglie e istituzioni.